ciao a tutti amici sono qua con mario e siamo nel nel 1400 e purtroppo si riescono a fare i video è una cosa bellissima e mario mario ha piaciuto metto a farti cosa dai fatti vedere guarda che c'è il video non si vede niente mario aspetta un attimo aspetta un attimo mamma mica hai fatto ma come si vede questa cosa come si vede guardate l'obiettivo scusa dai per piacere scusatelo è perché allora dai no allora stavamo dicendo che siamo qui nel mille parla di qualcuno mi fa fare i video a me allora non mi fare fare i video a me non voglio fare queste cose sapete già perché non mi piace fare queste cose che va facendo e a me io voglio stare grazie a Dio grazie a Dio come parli grazie a Dio perché è un video su facebook e allora la gente ci vede nel 2018 no se no come facciamo a tornare eh intelligente e allora eh intelligente ma perché tu sei intelligente allora che ti metti a fare i video con la gente che non conosci che ne sai che ci sta a inter o a facebook che c'è il sugerber che ci faccio degli amici della pagina no metto con il girolamo che ha metto che non siamo noi è un'imitazione chissi e allora siamo imitati scusate eh e chiudo il vi perché Mario non ce la fa c'ha da fare e lo facciamo poi un'altra volta eh grazie bellissimo ciao tu tu sei tu che sei una cosa no tu sei scema allora saleto piace Mario